60 manifestazioni in un periodo molto circoscritto con iniziative nuove, che dire collaterali non rende giustizia, non rende l'idea. Un festival che vuole dialogare col territorio, che vuole dialogare con le università, con i giovani, con la provincia. La 54esima edizione del Festival Pianistico Internazionale si presenta alla linea di partenza carica di vitalità e con uno sforzo organizzativo impressionante. Quasi 60 le manifestazioni organizzate a Brescia e Bergamo, tra concerti nel cartellone principale, nei progetti collaterali, conferenze, proiezioni di film, perfino un workshop per la formazione di critici musicali, tante le iniziative dunque che si affiancano alla tradizione del Festival di portare nelle due città le più brillanti stelle mondiali del panorama pianistico e orchestrale. E grande novità del cartellone definitivo è l'arrivo di Marta Argeric, che si esibirà a Brescia il 5 e a Bergamo il 6 giugno. A Bergamo e Brescia la presentazione ufficiale del cartellone definitivo, per presentare oltre ai consueti grandi nomi anche giovanissimi e strepitosi talenti, perché scoprire le star del futuro è un'altra delle missioni che il Festival si è dato, a partire dalla serata inaugurale. Uno per tutti, Malofaev, 15 anni a inaugurare il Festival quest'anno, pochi giorni fa ha avuto un trionfo in Scala con Gergev e la Fiera Monica e siamo felicissimi di essere secondi soltanto alla Scala, in far conoscere questo talento assolutamente straordinario. Ma ce ne sono almeno 4-5 altri di estremo interesse, per esempio il coreano Cho, vincitore del premio Chopin, ma vorrei anche dire anche un italiano, per esempio Filippo Gorini, bergamasco, vincitore del premio Beethoven. Tante, dicevamo, le manifestazioni che arricchiscono il programma del Festival, a partire dalle collaborazioni con i conservatori, a Brescia quattro i concerti, di cui uno sinfonico per il progetto Beethoven, a Bergamo otto gli appuntamenti nei quali 22 studenti eseguiranno le 32 sonate, sempre di Beethoven, e poi a Brescia il progetto biblioteche, a Bergamo, festivale dintorni, la collaborazione con la banda Isidoro Capitani e con la banda musicale della Guardia di Finanza. Tre conferenze, la proiezione di un film della collana Voxi Mago, legata a Fidelio, unica opera composta da Beethoven, e poi tante collaborazioni con altre istituzioni culturali. A Bergamo in particolare, ha ricordato il presidente del Festival, Andrea Gibellini, un omaggio viene dedicato alla memoria di Gianandrea Gavazzeni, illustre direttore d'orchestra bergamasco, amico del Festival, uomo di rara cultura, scomparso nel 1996. Due le direttrici lungo le quali si sviluppa il progetto Gavazzeni, tutti i concerti con orchestra sono dedicati alla sua figura, e in più il 27 maggio, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, cui il maestro era particolarmente legato, avrà luogo un concerto nel suo nome, con la filarmonica del Festival, diretta dal giovane Alessandro Bonato, e la partecipazione di Gennaro Cardaropoli. e la partecipazione di Gavazzeni, la partecipazione di Gavazzeni,